Si continua a sudare a San Gregorio Magno. È il giorno numero 12 del ritiro dell'Avellino. Michele Patienza vuole tutti sul pezzo, al di là della fatica o del caldo. Nel pomeriggio di domenica la squadra ha incontrato una delegazione del gruppo bianco-verdi insuperabili nella tribuna dell'impianto sportivo, sede del ritiro dei Lupi. Grande emozione con l'evento che segue quanto accaduto nella mattinata di venerdì quando squadra e staff avevano ricevuto la vista della cooperativa Nuovo Orizzonti di Caposeglie in collaborazione con l'APS Il Sorriso. Oggi è in programma il terzo e ultimo test precampionato dopo il 19-0 rifilato alla Gregoriana, terza categoria, e il 6-0 contro la rappresentativa svincolati Equipe Campania. Alle 17-30 i bianco-verdi continueranno ad alzare gradualmente la sticella della difficoltà degli allenamenti, congiunti affrontando l'atterico San Gregorio con pagina locale che milita nel campionato di promozione. Sarà l'occasione per valutare lo stato di forma globale, il grado di intensità tra i singoli e l'armonia nello sviluppo delle fasi di gioco del collettivo per proiettarsi alle ultime ore del perimetro del centro sportivo polivalente della provincia di Salerno. Il test di oggi pomeriggio sarà l'occasione anche per vedere all'opera Sonas, che si è aggregata al gruppo solo qualche giorno fa, e Patierno, rientrato da Cesenatico dopo il percorso di recupero. Nella mattinata la squadra ha lavorato sulle palle inattive. Il tecnico di Sansevero poi potrà contare anche su Cancellieri, arrivato nella giornata di sabato a San Gregorio Magno dopo aver siglato un triennale. Motivazione al massimo per il classe 2001, pronto a mettersi a disposizione dei lupi.